Allora io vorrei un sindaco presente, vorrei un sindaco che si occupasse della nostra città e vorrei un sindaco anche che in qualche modo possa prevedere determinati fenomeni e mettere in atto l'ABC per evitare. In una situazione del genere noi ci saremmo aspettati da parte del sindaco Sala parole di chiarezza che in qualche modo venisse in consiglio comunale o che comunque insomma dato che non poteva non sapere, dicesse qualcosa. Invece scopriamo che lui si accorge oggi che i dirigenti devono guardare proprio per evitare fenomeni di corruzione. Noi abbiamo un problema morale-etico a Milano che si chiama Beppe Sala e questo è il problema della nostra città. Oggi noi vogliamo consegnare il foglio di via al sindaco Giuseppe Sala. Se ne devono andare a casa in maniera immediata. Bene, noi lunedì chiederemo una commissione di indagine su ATM e sul figlio comunale perché se vogliono l'onorità devono dimostrare la loro per prima.